Niente, volevo anche dire che mi avevano detto anche per tornare il martedì o questa domenica all'Isola dei Famosi, ma non ce la faccio perché la domenica andiamo al RAW tutti insieme, tutti i nostri amici, con Dani, con me e dopo il martedì torniamo in Italia per fare una riunione, quindi non posso ma sarò sempre felice e ringrazierò per sempre questa produzione perché con me sempre sono stati carinissimi da sei anni. Oh no, che sei anni? Da sei anni che faccio l'opinionista ma da dodici che li conosco. Sarà presto in Italia, perché ha delle riunioni di lavoro, alla sede centrale della Mediaset. Ora si prenderà dei giorni di riposo meritati essendo stata mesi chiusa dentro ad una casa.